Hanno scritto anche al Premier Conte le parafarmacie che offrono la massima disponibilità a collaborare in questa emergenza sanitaria. Con il progetto presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri che parte da un movimento nazionale, si chiede che anche i farmacisti, sia di farmacie private e comunali che di parafarmacie, abbiano l'opportunità di fare i test sierologici per uno screening sul Covid-19. Questo esame potrebbe funzionare da filtro con il vantaggio di alleggerire le strutture pubbliche e allo stesso tempo agevolare i pazienti. Ad oggi infatti le parafarmacie rimangono escluse nonostante la competenza e la professionalità di chi ci opera. Una maggior capillarità nel territorio, quindi anche la facilità per anziani o per altre persone che comunque possono avere delle problematiche ad allontanarsi dal proprio quartiere, la possibilità di fare più velocemente questo test. Poi anche il fatto che noi possiamo offrire la tracciabilità in questo test o tramite una PEC o tramite delle piattaforme, comunque possiamo dare tracciabilità. E poi anche il fatto che potremmo riuscire a contenere i prezzi. L'appello è rivolto anche alla Regione Marche. In questo momento, ha proseguito la coordinatrice regionale delle parafarmacie, siamo esclusi e senza una valida ragione. Dobbiamo lavorare tutti per una causa comune. Noi abbiamo farmacisti laureati, io personalmente sono farmacista da 37 anni, quindi farmacisti laureati, per cui personale assolutamente idoneo e paragonabile a quello delle farmacie normali e oltretutto abbiamo anche strutture che possono benissimo essere paragonate a quelle di tante farmacie. Questa discriminazione per noi è assurda, ma purtroppo noi da sempre ci stiamo sbattendo per questa cosa, per evitare queste discriminazioni. Con le precedenti amministrazioni regionali abbiamo avuto notevoli problemi. Ci troviamo in Ceriscioli che ha dato le mascherine ai sali tabacchi, per esempio, quando poi non viene a riconoscere magari a noi un CUP o altre cose. Quindi noi chiediamo semplicemente di essere lineari in questa possibilità di fare questi test e chiediamo anche noi di poter partecipare a questa cosa.